879 1800 cartoline in uno scatolone insieme molto eterogeneo sempre cartoline a colori di grande formato anche questo scatolo bello pesante sempre un po da tutta l'italia questo mi pare che è un lotto pure lui offerta libera quindi parte da un euro un bel lo Bello pieno. Sono circa 1800. Viaggiate, non viaggiate, come spesso accade. Se volete altri video e informazioni, scrivete a filateliakiocciolaquattrobaiocchi.com